Salve a tutti, fan della tv italiana. Oggi ci immergiamo in una storia che ha catturato l'attenzione di tutti a Cologno Monzese. Silvio Berlusconi sembra essere affascinato da Samira Lui, e le voci di corridoio non si fermano qui. Cosa succede dietro le quinte alla ruota della fortuna? E qual è la reazione di Silvia Toffanin? Scopriamolo insieme. Iniziamo con l'intrigante storia di come Samira Lui è stata portata alla ruota della fortuna. Si dice che sia stata una decisione diretta di Pier Silvio Berlusconi. Le malelingue parlano di una promozione decisa dallo stesso Addi Mediaset. Ma chi è Samira Lui? Samira è diventata famosa grazie al GF 2023, ma la sua avventura lì è stata breve. Dopo l'uscita dal reality, le porte della ruota della fortuna si sono spalancate. Si dice che Berlusconi abbia voluto la sua promozione accanto a Gerry Scotti. Ma cosa rende così affascinante Samira? Le voci su una possibile attrazione di Berlusconi per Samira sono cresciute a tal punto che, persino durante il brindisi di Natale a Mediaset, ha posato per un selfie con lei. Una mossa insolita da parte di Berlusconi, noto per evitare questo genere di foto. Ma la cosa più interessante è la reazione di Silvia Toffanin. Dillinger News sostiene che la conduttrice non abbia gradito le attenzioni di Berlusconi verso Samira. Pare che abbia addirittura chiesto al suo staff di rimuovere il follow di Verissimo dal profilo Instagram di Samira Lui. Ecco quindi un triangolo intrigante a Mediaset, Berlusconi, Samira Lui e la reazione di Silvia Toffanin. Cosa ne pensate voi? Lasciate i vostri commenti qui sotto. Condividete il video se vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo della tv italiana. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.